Si apre un decennio cruciale per il futuro del nostro paese. Grazie alla spinta accelerata del PNRR, il ritardo del mezzogiorno può essere finalmente affrontato, ma servono interventi di coesione e grandi riforme strutturali. Ed è su questa sfida che Confindustria ha voluto promuovere un ampio confronto a Napoli alla stazione marittima. Ad aprire i lavori il vicepresidente nazionale Vito Grassi, che sferza il governo sui divari tra nord e sud. Qual è il vero disegno per invertire la rotta? Ha chiesto Grassi davanti alla platea di governatori, ministri e amministratori. Tra questi anche De Luca, che conferma i suoi dubbi sul riparto dei fondi del recovery. Non credo più nella solidarietà tra nord e sud, ha detto il presidente della regione Campania, che tra le altre cose ha annunciato che domani andrà a fare la terza dose di vaccino. Il nodo fondamentale dell'Italia è il groviglio burocratico, amministrativo, giudiziario che paralizza questo paese. Se non affrontiamo questo tema con la spada, non con i piccoli aggiustamenti, con la spada l'Italia è perduta. Anche il neosindaco di Napoli ha chiesto il rispetto della quota destinata al sud e sul dissesto del comune avverte ci vuole subito un intervento legislativo. Il dissesto sicuramente ci vuole un intervento legislativo che ci aiuti sul debito e ci consenta poi di rimuovere la leva della spesa corrente. I primi dati sul PNRR, i primi bandi che sono stati fatti ci dicono che purtroppo non si sta ancora rispettando questa quota che noi dobbiamo garantire. Anche sulla giunta, rassicurato, arriverà presto. Avremo la giunta breve. Che tempi ci sono fin da qua? Tempi brevi.